Ma perchè c'è questo qua che stai messo in capa? Salve amici, tutto il nostro tag fu 19 e vi dico questo nuovo video Oggi siamo qui in questo nuovo video su Troppo all'interno di Listown Il ritorno di questa modalità attesissima nel mio canale Che pure tutt'ora nel server mi stavano richiedendo di registrare Infatti stavo con un po' di fan Ragazzi, voglio resalutare Ciao a tutti Ehi guys E chi è? Siete degli scalmanati Quanto oggi e domani Uh, prop volanti Prop volanti Prop volanti Oddio è esploso No, non sono otti, non sono otti State tranquilli ragazzi Nel frattempo sono seguito da mezzo mondo Lasciatemi Volevo stare da solo, per favore No Chi è giro in grattuto Ma che palle Eh no, eh no E Tanner Eh no лин Kras permano 失 friend 니 Chiamatemi co... No, io sono un detective adesso. Fa chi è? Ok, ci siamo fatti scoprire. Oh! Ma che... Qualcuno ha visto Roxas? Oh, chi... Erika! Mi serve un health station adesso! Se sei viva. Non penso. Ok, siamo nella merda. Eeeh, vediamo, vediamo. Ora ti mando l'amicizia. Dove... Oh! Oggi è su un cerchino. Non potevi? Sono io e sto cerchino andando. Non ci sarei prima che ero in una cosa. Ti... Ah! Ah! Ekaia! Zuka! Sì! È morto! Devo censurarmi! Ok, non mi fido di Kratos. Ho 3DHP! Kratos... No, aiuta tutta la furia! C'è un traditore. Appunto. Ah! Ok. Aiuto! Sono donato... E ho racconto la lama del T. Ho racconto la lama del T, signori. Io ve la lascio qua. Non voglio avere niente a che fare. No! No! C4! No! Mischio è il primo che dobbiamo andare a sfidare. U, sono T! Perfetta! Eccellente, Smithers! Sguinzagliate i cani! Ehi, ti piace questo barile? È un polipo all'ardone. È un polipo all'ardone. Fermo, eh! È un polipo all'ardone dove si trova l'ardone. Ah! Aspetta, ne ho un altro ancora. Mi piacciono i barili. Oh! Non l'ho fatta apposta! Non l'ho fatta apposta! Ah! Quindi, mi aspetta. Il telefono! Perché abbiamo fatto la prima... Per quel mona! Andate a quel paese! Se avete un'adicola, l'ammazzate questo qua che mi sta seguendo. Kratos mi sta seguendo. Per fortuna, ho qualcuno che mi sta seguendo, che mi sta coprendo le spalle. E mi è morto. Facciamo così. Ok, DNA. Perfetto, sono rimasto da solo. Ah, ma non me lo viencio. Siete di noi. Ah! Mi hai spaventato! Tecnica della moltiplicazione del corpo! Eh, no, devo aspettare un po' scusare e riuscire il fumo. Tecnica della moltiplicazione del corpo! È stato venuto a qualcuno! Ok, ho DNA, ho DNA, ho DNA. È ampi, ragazzi, è ampi. Ampi! Fermo! Non sono io! No! Non mi ha detto che tagge! No! 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 Ciao, mamma! Tag, stai con me! Non mi lascia tutto! Non vengo da qui! Independence, perché sei sceso da là sopra? Perché io sono sceso da là sopra! Il mio sesto senso dice qualcos'altro! Fermo! ItaCost! Detective! Cosa devo fare adesso? Che dice? Cosa devo fare? Clicca! Adesso? Segue il segnale! È Gabbo, è Gabbo! Non è Gabbo! Non era Gabbo! Allora è Dark! Oh mio Dio! Oh mio Dio! Tan tan tan! Tan tan tan! Sono Dark e poi ho sparato un P! Oh, l'ha zoccato! Era T! Era T! E io ho sparato anche perché ho disoperto! No! C4! No! Vabbè ragazzi che vi posso dire Vi posso dire ragazzi Spero che vi sia piaciuto questo video Mettere mi piace, commentate Consigliandomi il prossimo episodio E che vi posso dire Da Tag Lucenove è tutto, ciao a tutti Salve amici di Dore Questo è Tag Pulisenove Oggi siamo qui in questo nuovo video Di Conte Di Gary Svodda